Il regista Nichi Giussino che entra il 6 dicembre 2014, mancano 20 minuti alla manifestazione, ma volevo fare i saluti a Maria De Filippi. Ricordiamo Paolo che io ho terminato lo sciopro della fame, noi ti eravamo ingrassato più che dimagrito, ma siamo sicuri che l'hai fatto? L'ho fatto e Maria De Filippi ancora non mi ha contattato, però io sono una persona che non se la prende e quindi ieri 5 dicembre è stato il suo compleanno, ha fatto 53 anni e le voglio fare tanti acuri. Sagittario? Sagittario? Sì, tu che segno sei? Acquario. Ascendente? Siamo compatibili Maria, siamo compatibili. Ascendente non me lo dico perché io non ho mai capito niente dei segni, delle cose, tanto se guardo le previsioni dei, come si chiamano? Del tempo? No, che? Dei segni. Ah, le previsioni dei segni, l'oroscopo si dice, è una parola sola. Praticamente, mi dà sempre che trovo l'amore, trovo l'amore, ogni volta che vedo le previsioni, invece trovo tante fregature. Trovo tante fregature. Come Maria De Filippi mi avevano detto, l'oroscopo mi ha detto, ma qui a una settimana avrai grandi emozioni nell'ambito lavorativo. E lei ce l'ha avuta comunque? Altre emozioni. sei andato alle iene. No, quello dopo, ho avuto altre emozioni. Quali? Sessuali. Con chi? Con chi? Come? Illustraci, facci rendici partiti. Hai visto i preservativi che ho io a casa? Eh, lui ci ha fatto vedere, non le iene. Ha fatto vedere? Adesso io ho voluto rendere partiti per l'Italia, a vedere. E quindi che vuoi dire? Luce a me mi ha detto, e che ce fai con le donne? Io le ho sbagliato. Hai tirato fuori i preservativi. Perché io con le donne, Paolo, ci gioco a carte. Sai a che gioco? Sai a che gioco? Eh, vabbè, chiudiamo con questa freddura, va. Però auguri, Maria. Veramente, Maria. Auguri sinceri. No, veramente, perché vedo, a me ancora non mi ha chiamato, però non perdo mai l'autostima. L'autostima su di me. E sua? Eh, la sua un pochetto la sto perdendo, perché, vedi, io non mi abbatto, cara Maria, non mi abbatto a piangere. Però, 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 sono venuto a conoscere. Vuoi andare a fare il postino di sempre, ricordiamo ai nostri spettatori. Postino o l'opinionista. O l'opinionista. Eh, beh, è pieno di opinionisti. Anche Niki Giusino mi sembra uno che ha belle opinioni. No, ma gli opinionisti che già ci stanno adesso sono vecchi, sono anni che stanno lì, capito? Dei non lasciare. Poi dicono che i giovani non trovano lavoro. Eh. Mo' lascia perdere che io non lo cerco. Oh, va bene, un saluto. Però spero di trovarlo. La Maria di Filippo.